Silenzio! Ehi, ehi! Andai, andai! Santo cielo! State zitti! Quanti litri di acqua sosta! A tutte le signore un sentito ringraziamento. Adesso continuiamo per il paese con il divino sacramento. Ma prima facciamo un'opera pia, ascoltiamo la Santa Omelia. Bravo! Come dice San Giovanni, benedice a tutti quanti. Ah, che bella compagnia, questi detti argenti e questi della baronia. Bu, state in dei siti e facetemi parlare. Sta bella storietta che voglio proprio raccontare. Ma in demà è capitata una cosa strana. Si voleva confessare una cristiana. E poi è scappata una bella giornatella. Mi è capitata pure una bella monachella. Grazie a Dio della Madonna. Che belle cose, che testa donna. Gli stai usando, non è Madonna. Ma si sono copiate pure le mutande. Quando mi è finito di pregare, quando mi è finito di pregare, è finito la confessione, gli metto in mano il cordone. Se lo tiri piano piano, se lascio a fare lo sacre stano. Ma se lo tiri forte forte, tra le cose non lo faccio mette. V backing up, non mi bev specchio. Grazie. 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 Grazie.